Ciao e benvenuto nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. In questa video recensione delle top 100 cripto andiamo a conoscere Tron, come funziona, le novità e le mie impressioni. Stiamo andando alla grande, tanti iscritti, tanti mi piace e abbiamo diverse novità in arrivo. Se non sei iscritto, benvenuto. Mi presento, sono Stefano Gabbianelli, nome in codice il Marchese del Cripto. Ho lavorato alcuni anni come consulente finanziario, ma ora mi occupo di altro, ma la passione nel settore finanziario non è mai tramontata, anzi è stata rinnovata grazie al settore delle cripto. Clicca sul pulsante iscriviti e non essere tagliato fuori dalla community che sarà la più ambita in Italia. A proposito, messaggio per la community. Verso un video con un dottore commercialista esperto in criptovalute. Sotto in descrizione del video c'è un link per compilare un form dove puoi scrivere le domande da effettuare al commercialista. Naturalmente non potrò selezionarle tutte, visto che il video non durerà molto, ma ne faremo altri insieme nei mesi a seguire. Quindi se la tua domanda non avrà risposta, molto probabilmente verrà discussa nel prossimo video. Questi non sono consigli finanziari e tutto quello che vedrai è a solo scopo informativo e di studio. Tron è una criptovaluta molto controversa, è stata amata ed odiata allo stesso tempo, ma si trova sempre in cima alle classifiche per market cap, quindi credo che sia giusto dedicargli un piccolo spazio. Tron è una criptovaluta nata nel 2014 e la cui sede dell'azienda è a Singapore, dall'idea del suo fondatore Justin Sun. Justin Sun è un ex dipendente di Ripple, quindi è noto per la sua personalità anticonformista, ma è un personaggio molto ambizioso e stravagante. Proprio questa stravaganza e la sua politica di marketing, come ad esempio pagare per andare a pranzo con Warren Buffett e regalare una Tesla a Kobe Bryant, hanno fatto sì che si iniziasse a parlare di Tron. Il suo scopo era quello di avere una valuta decentralizzata, scalabile ed economica, ma originariamente era un token ERC20 che si basava su blockchain di Ethereum. Nel 2018 Tron si è definitivamente distaccata da Ethereum, divenendo una blockchain a sé stante. Successivamente la blockchain di Tron è stata implementata con la possibilità di creare degli smart contract, esattamente come avviene per Ethereum, ma in un linguaggio di programmazione più semplice, o meglio, più utilizzato. Mentre Ethereum utilizza il suo linguaggio Solidity, la blockchain di Tron utilizza i linguaggi Python e Java. Lo scopo di Tron ora è quello di voler diventare un concorrente di Ethereum. Infatti Anxan, facendo una comparazione tra Ethereum e Tron, dichiara che se Ethereum è l'Apple del blockchain, Tron è Android. Difatti su blockchain di Tron è possibile sviluppare, come detto, smart contract esattamente come avviene per Ethereum. Il suo sistema di consenso delle transazioni è in Delegate Proof of Stake, quindi diverso dall'attuale Proof of Work che utilizza Ethereum, almeno fino a quando non saremo in fase 2. Per convalidare le transazioni e garantire la decentralizzazione, la blockchain si avvale di 27 validatori, i quali vengono sostituiti ogni 6 ore in base alle votazioni ricevute. Per diventare validatori e garantire la sicurezza e la decentralizzazione bastano appena 9999 Tron da frizzare dentro la blockchain. La rete è scalabile, infatti è possibile effettuare fino a 2.000 transazioni al secondo contro le appena 25 su blockchain di Ethereum ed inoltre su blockchain di Tron è possibile utilizzare gli USDT, la famosa Stable Coin anche se un po' di battuta, ed inviarla anche in modo del tutto gratuito. Infatti per effettuare delle transazioni su blockchain di Tron non è necessario utilizzare dei Tron, infatti basta avere Bandwitch mentre per utilizzare Smart Contract è necessaria la Energy, oltre che naturalmente al Bandwitch. La Bandwitch viene generata in automatico alla creazione di un nuovo wallet e dà il diritto ad effettuare fino a 25 transazioni al giorno, in modo del tutto gratuito e viene ricaricata giornalmente. Oppure è possibile mettere in freeze, ossia diciamo in staking per 3 giorni, alcuni Tron e rigenerarla in automatico. Qualora non si abbia banda o energia a sufficienza è possibile ugualmente effettuare le operazioni ma non saranno più gratuite, ma verranno utilizzati e prelevati alcuni Tron. La Energy invece serve per interagire e creare Smart Contracts, per effettuare ad esempio operazioni di staking, aggiungere liquidità, fare del farming e via discorrendo. L'energia può essere ricaricata allo stesso modo del Bandwitch, oppure in assenza di quello verranno bruciati alcuni Tron dal proprio wallet. A differenza del Bandwitch, la Energy non viene ricaricata quotidianamente, ma bisogna necessariamente effettuare un freeze di Tron. Attualmente la blockchain di Tron sta tornando prepotentemente alla ribalta. Grazie alla DeFi e alla sua integrazione con la stessa. Questo è uno dei motivi per il quale il token Tron sta avendo pian piano sempre un successo maggiore e un aumento di prezzo. Oltre al fatto che nel 2018 ha stretto un accordo con il gigante coreano Samsung, il che lo ha reso molto famoso soprattutto nel mercato asiatico. La blockchain di Tron è liberamente visibile, esattamente come avviene per Ethereum. È possibile ad esempio verificare la corretta transazione, gli importi, la coin all'interno della transazione, dei wallet e via discorrendo. Veniamo al coin TRX. La moneta TRX viene utilizzata per effettuare le operazioni, per dare le ricompense ai validatori, per effettuare delle votazioni all'interno della blockchain e per validare appunto le transazioni, nonché per il freeze e l'unfreeze. Il protocollo generalmente utilizzato per effettuare transazioni e operare con gli smart contract è chiamato TRC20. Il token di Tron ha raggiunto il suo all-time high, ossia il suo picco massimo, il 5 gennaio del 2018, arrivando fino a 23 centesimi di dollaro, mentre oggi il suo valore è di poco inferiore ai 5 centesimi. Si trova in 26esima posizione per market cap al momento del video, la sua supply massima è pari a 100 miliardi di token, come puoi vedere è molto lontano dal ritornare al suo all-time high. Ora ti dico le mie impressioni. La blockchain di Tron è sicuramente scalabile ed economica. Effettuare, dare la possibilità di effettuare alcune transazioni gratuite ai possessori di banda ed energia può essere un vantaggio rispetto alla concorrenza, se per concorrenza intendiamo Ethereum come detto da Sun. Il proof of stake rende questa blockchain green, quindi richiede poca energia per reggersi in piedi e il fatto che si possano realizzare gli smart contract la rende sicuramente appetibile a molti sviluppatori. Inoltre utilizzando un linguaggio di programmazione diffuso può essere un vantaggio, il quale magari permette ad alcuni sviluppatori di scegliere questa blockchain rispetto alla blockchain di Ethereum. Ai nuovi arrivati che vogliono interfacciarsi con questo settore, sicuramente la blockchain di Tron è quella che offre un maggior possibilità di utilizzo e più che altro una semplicità di utilizzo relativamente migliore rispetto alla blockchain di Ethereum. Lo sviluppo e l'adozione sempre maggiore della DeFi, la quale è entrata prepotentemente nella nostra quotidianità e nel mondo delle cripto in generale, sta trovando terreno vergine e fertile all'interno di questa blockchain. Di contro posso dire che per come la vedo io non è del tutto decentralizzata, anche se i 27 validatori vengono sostituiti ogni sei ore, ma non credo ci voglia molto a manipolare questa scelta. Al suo interno ha ben 100 miliardi di token, che a mio modo di vedere sono un numero smisurato. Non tanto per un utilizzo futuro massiccio, chiaramente se così fosse non sarebbero nulla, anzi, ma allo stato attuale sono davvero un numero impressionante. Inoltre la sicurezza della blockchain è ancora tutta da confermare e testare a pieno, ma questo sarà possibile vederlo solo con un utilizzo sempre più massivo della stessa. Poi c'è da dire anche che con l'avvento di altre blockchain più integrabili, scalabili, decentralizzate e semplici, vedi ad esempio Polkadot, credo renderanno la vita difficile a Tron. Per rispondere al figlio di Sun è sì vero che c'è Apple e Android, ma ci sono anche altri sistemi operativi minori su smartphone come Windows, Librem, Linux ed altri. E credo che Tron faccia parte proprio di questi sistemi operativi. Spero almeno per loro che stia più vicino a Windows rispetto a Librem. Tu invece cosa pensi di Tron? Ti piace? Non ti piace? E cosa pensi del suo futuro? Se ti fa piacere, condividilo insieme a noi, scrivilo sotto nei commenti. Sempre sotto in descrizione del video troverai i link ai miei social dove puoi iscriverti, dove io invio diverse informazioni che possono esserti utili. Nel prossimo video, ciao dal Marchese del Cripto!